Non è ancora terminato il diciannovesimo livello, abbiamo il Cip Leader con noi, Moreno Di Domenico, oltre un milione di Cips, su Bui 3.000-6.000, da domani si riprenderà tutti i TM, da Bui 4.000-8.000, un sacco di Bui. Diciamo che è stato un bel torneo, spot giusti, qualche rilancio in posizione corretto e domani si punta ai massimi, per forza, con tutto quello stack non posso fare altrimenti. Ascolta, siete partiti in 546, siete rimasti in 60, hai tantissime fish, come pensi di giocartela? Sicuramente dovrò far valere la mia new stack, per cui tanto, tanto, tanto spewing, poi vediamo, insomma. Ci vuole sempre aiuto delle carte, poi vediamo. Beh, certo, le carte saranno comunque importanti, però di pressione ne potrei fare molta. Sì, assolutamente, è quello che ho fatto praticamente nelle ultime due ore e mezza, dove da 600k sono salito fino all'altro milione e quindi continuerò così. Sì, racconta un po' la mano decisiva più importante che ti ha portato a oltre un milione di fish. Allora, non sono bravissimo a ricordarmi le mani, forse la mano più importante non è quella con cui ho superato il milione di fish, perché è stato fatto con una serie di piccoli piatti, soltanto appunto la bolla, insomma, la posizione, eccetera. Forse la mano più importante è stata quella che da 300 mi ha portato a 500 e qualcosa, quando ho settato con i 10, Oppo mi ha voluto regalare praticamente 130k con k donna su flop donna 10x. Io ho cibettato, lui rilanciato, puscio, lui mi snappa. Non lo so, secondo me è un call sbagliato, però fatto bene, insomma, sono contento. Ma insomma non ci lamentiamo quando ce le danno le fish, insomma, dai. Allora, una cosa importante, siamo arrivati ad un punto particolare della natura del poker, parliamo di tornei multisala, 546 in 5 circoli, domani gli ultimi 60. Cosa ne pensi di questa formula di torneo un po' nuova? Beh, sicuramente è una bella esperienza, è accessibile un po' a tutti, con un buy-in non esagerato, insomma. Però ci permette di avere comunque la possibilità di giocare un buon poker, è una bella esperienza sicuramente. Ascolta, domani arriveranno persone da Brescia, da Bergamo e da altre realtà qui vicine. Li conosci già? Conosci già qualche giocatore? Li temi? Hai qualcuno in particolare? No, non credo di conoscere nessuno di quelle persone che verranno da fuori, però sono loro che verranno da fuori. Noi giochiamo in casa e quindi facciamo valere il fatto che giochiamo in casa. Allora, signori, domani il day 3, dalle ore 19, vabbè, dai 18, allora domani dalle 18, ci vediamo tutti qua, saluti tutti. Ciao!